ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi giochiamo a 5 minuti più 5 secondi a mossa perché ho visto che a 3 più 2 ormai ora che sono intorno ai 2000 punti faccio veramente fatica a commentare e le partite ne risentono veramente molto anche come come qualità del gioco alla fine diventa sempre una schifezza totale quindi giochiamo più tranquilli a 5 minuti di 5 secondi a mossa penso che così riesco riesco a salire ancora un po giochiamo contro baldi che allora questo per i ragazzi sotto quelle bandiere dovrebbe essere la bandiera del cipro però non ne sono sicuro però non so cosa sia questo stemma mostra il tuo distintivo cos'è un poliziotto questo personaggio ok comunque abbiamo giocato la siciliana cavallo f3 e 6 c3 è una delle mosse più giocate giusto per per giocare d4 alla mossa dopo così abbiamo un forte centro e ora lui ci gioca d5 rientrando in una specie di francese se gioco di 5 diventa a tutti gli effetti una francese di spinta vabbè giochiamo a cavallo c3 dai why not se mangia comunque mi accentra il cavallo questo pedone non è non è impresa perché è ben difeso dal mio cavallo e dalla mia donna quindi tutto sommato sono tranquillo l'unico problema che potrei avere presa presa e alfiore b4 scacco a quel punto forse forse ci sarà da pensare però beh speriamo che infatti speriamo che faccia qualcosa altro tipo cavallo f6 cavallo f6 secondo me non è non è la mossa giusta oddio non è una massa perdente però ok vorrei 5 la gioco con un guadagno di tempo questo cavallo ok può andare in questa casa ambiziosa la massa naturale sarebbe stata cavallo d7 e ora vabbè sviluppiamo i nostri pezzi il fiore di 3 non c'è non c'è fretta di eliminare questo cavallo tanto ce l'avremo sempre questa possibilità alfiore b4 posso giocare donna c2 la mossa più naturale secondo me o anche non so se posso arroccare corto cedendo quel no non ha nessun senso quindi donna c2 tra l'altro iniziamo a minacciare di godagnare un pedone qua quindi può essere che lui si convinca a mangiarmi questo cavallo in c3 rafforzandomi il centro tra l'altro dopo la ripresa col pedone b si aprirebbe per me una per esempio dopo alfiere per c3 b per c3 si aprirebbe la possibilità di giocare alfiere a3 per me che è veramente forte perché gli impedisce l'arrocco per molte mosse ok donna a5 è buona sicuramente buona ora alfiere d2 vediamo che tutta questa tensione che si è creata sul mio cavallo secondo me non porta non porta da nessuna parte ok se si è mangiato quell'alfiere ha tenuto tenuto questa forte inchiodatura abbastanza fastidiosa ok nelle prossime mosse penso che arroccherò corto torre c1 una possibilità a3 una possibilità a3 subito non ha senso perché lui può star fermo tanto non posso mai mangiare questo alfiere per via di di donna per a1 quindi a3 diventa una mossa una mossa sensata soltanto una volta che ha giocato a che bello avere un po di tempo per per pensare per commentare tutto b6 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 un po lentino secondo me ok lui vuole cambiare il suo alfiere schifoso della francese con con alfiere a6 suppongo però ci mette ci mette un po di tempi io vorrei poterne approfittare mettiamola per esempio posso forse fare il fiere b5 il fiere b5 forse può mangiarlo cavallo per recuperare la donna ci sono queste possibilità quindi per ora evito e niente vabbè li lasciamo fare sta alfiere a6 che vabbè sarà una piccola conquista per la sua posizione sicuramente ok dai noi continuiamo con i nostri piani torre c1 devo stare un po attento al fatto che magari c'è qualche linea in cui lui può fare donna per a2 sfruttando 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 appunto l'inchiodatura ok arrocco è strana secondo me arrocco non va tanto bene non so perché ma questa questa sensazione ok per esempio a3 mangia mangia di torre attacco il cavallo tutte mosse abbastanza interessanti vediamo un po vabbè dai facciamo sta a3 non ne vedo di migliori stavo cercando qualche qualche sacrificio ma non ho visto niente ok anche la sua donna adesso inizia a rimanere un po incastrata quindi possiamo sempre tenere a mente il fatto che qualche mossa tipo b4 in futuro possa guadagnare del materiale ok alfiere d3 adesso forse non andava bene o forse si stavo pensando a mangiare qua però lui effettivamente poteva rimangiare difendendo l'alfiere l'alfiere in d3 quindi forse l'alfiere per d3 è una mossa comunque fattibile lui comunque ha deciso di mangiare lì torre per e adesso immagino che mangerà qua posizione tutto sommato abbastanza pari però io ho il controllo della dell'unica colonna aperta della partita della posizione quindi dovrei avere un piccolo margine ok non vedo mosse mosse serie che non siano alfiere per d3 rischia di beccarsi appunto qualche qualche trucco con b4 se decide di fare altro restiamo a vedere cosa succede cosa succede ok comunque è il primo probabilmente il primo titolato che incontra banni maceria candidato maestro è un titolo che si conquista quando si ha almeno 2000 punti di elo fide ok cavallo e7 cavallo e7 è strana non capisco proprio perché non abbia voluto cambiare gli alfieri cioè ha fatto alfiere a 6 ma dopo vediamo se riesco a approfittarne in qualche modo b4 donna c2 non ci riesco forse donna g5 probabilmente giocherebbe cavallo g6 semplice semplice quindi anche quella non è un granché ok b4 però non so c'è qualcosa che mi piace donna a4 niente sto finito il tempo peccato vabbè dai giochiamo torre c1 facile conquistiamoci staccacchio di colonna che è l'unica gioia della mia posizione at the moment ok torre c8 mi da la possibilità di giocare torre per c8 forse guadagno guadagno materiale così maybe torre per torre per ora deve giocare alfiere per c8 guarda è tutto perché non ha voluto mangiare ok entro in questo finale sicuramente leggermente favorevole perché ho più spazio ma soprattutto questi pedoni sono molto più deboli dei miei quindi attiviamo subito il re adesso più rapidamente entra in gioco meglio è per noi anche è vero che questo pedone è ben piazzato perché crea una specie di barriera contro l'ingresso del mio re in questo tipo di finali il cavallo è sicuramente più forte dell'alfiere perché la posizione è abbastanza chiusa e il cavallo manovra manovra molto bene invece l'alfiere fa molta fatica manovriamo dove la mia idea è giocare cavallo d3 e entrare in c5 quindi la mia prossima mossa forse sarà il fiere a6 addirittura ok questa mossa strana posso mangiare qua l'unico motivo per cui non mangiavo lì prima di questa mossa è che prima su alfiere per h7 ci sarebbe stata g6 seguita da l'intrappolamento del mio alfiere però dopo dopo questa f6 g6 non è più possibile perché sarebbe in presa e quindi il mio alfiere tornerà indietro senza troppi problemi e credo che questo f6 sia stato un errore adesso alfiere 8 minaccia g6 però io faccio in tempo appunto a tornare indietro e re d4 gli impedisco di arrivare in queste due case quindi sta andando tutto molto bene fiere d1 vabbè dai gliela impedisco giusto per per dargli fastidio e la caduta del pedone h7 in realtà è piuttosto grave perché sicuramente mi dà la possibilità di crearmi un pedone passato con questi pedoni prima o poi quindi avanzo senza problemi di qua f4 stabilizzo anche il pedone e5 e questa ondata di pedoni arriverà fino in fondo si spera alfiere 8 vedete che anche lui è in ristrettezza di spazio abbastanza evidente cavallo f3 anche il mio cavallo torna in gioco l'ideale sarebbe entrare entrare con re e giocare cavallo d4 cavallo d4 starebbe molto bene però anche piani più semplici con cavallo g5 sembrano ottimi allo stesso modo ok cambiamo cambiamo l'alfiere per uno dei suoi pezzi forse qua cavallo per e5 cavallo per e5 è forte ok non credo che sia sufficiente per pareggiare sicuramente mi da dei problemi perché recupera recupera il pedone cavallo per e5 vabbè dopo la commentiamo a fine della partita secondo me sarebbe stata una possibilità interessante e ora avanziamo 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 cavallo d5 ora è costretto a mangiarmi mangiarmi qua se no guadagno secco questo pedone eh sì ok a4 mangio non mi ha dato problemi sarebbe stato un po' un po' meno forte spingere perché gli avrei dato questa possibilità di venire col cavallo in c4 e dopo mangiarmi il pedone a3 creandosi lasciando un un pedone passato anche a lui ok questa variante sarà una facile vittoria perché adesso anche questo cade scacco e cade anche il cavallo quindi penso che si arrenda infatti andiamo a vedere un attimo quel piccolo tatticismo che avrebbe avuto io ingenuamente ho giocato al fiere b5 qua però in realtà il mio alfiere è sospeso e anche il mio cavallo è sospeso e questo dà lui una possibilità di di colpire con un tatticismo con cavallo per e5 adesso vediamo che se rimangio con qualunque pezzo in realtà il cavallo è evidente che l'alfiere in b5 sia sospeso se invece mangio l'alfiere lui ne approfitta mangiandomi il cavallo con scacco e quindi anche in quel caso lì lui avrebbe avrebbe recuperato un pedone in realtà non credo che sia sufficiente per pareggiare perché avrei giocato re re per attivandomi ulteriormente il pezzo più forte che è re in questa posizione e dopo al fiere per b5 cavallo d4 probabilmente avrei giocato così i miei pezzi giocano molto molto meglio dei suoi adesso al fiere d7 sarebbe parecchio passiva e mi darebbe dei tempi per per crearmi un pedone passato di là e no stavo guardando al fiere d2 ma al fiere d2 in presa quindi quindi penso sia quasi quasi unica andare andare per una difesa passiva ma appunto g5 e difendere questo finale secondo me non ce la si fa secondo me è perso questo finale quindi ok sarebbe stato un tentativo di una difesa un po' più un po' più convinta niente spero che vi sia piaciuta questa partita ci vediamo ai prossimi video fatemi sapere se con questa cadenza le partite sono migliori peggiori se volete che abbia sempre due secondi sull'orologio o se va bene anche tempo più lunghi e vi ricordo sempre il mio corso Master Think in uscita a febbraio ciao ragazzi ai prossimi e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao